Nel 25 aprile cosa farò? Vado alle forze artiatine, la festa della libertà di tutti, la festa della libertà di tutti gli italiani, della libertà riconquistata. Non è una festa né di destra né di centro né di sinistra, nessuno se ne può appropriare, nessuno ha il diritto di appropriarsene perché è una festa di tutti i 60 milioni di cittadini italiani.